Ben trovati all'appuntamento con dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. In questo nostro appuntamento un tema soltanto, una puntata monotematica, ci fermiamo e ci soffermiamo in un ricordo, questo è il titolo. Infatti giovedì 10 febbraio si è tenuta la seduta solenne del Consiglio regionale in occasione del giorno del ricordo con ovviamente il Presidente del Consiglio regionale che ha aperto il Consiglio a Toni Capozzo, giornalista, a Guido Giacometti, referente per la Toscana dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e Eugenio Gianni, Presidente della Regione. E quindi questo è il tema e soprattutto l'importanza di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le fittime delle foibe, dell'esodo delle loro terre di estriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. E quindi questa è la finalità di una legge istitutiva del giorno del ricordo celebrato il 10 febbraio di ogni anno come solennità civile nazionale. Sono state tante le iniziative in tutta Italia e ovviamente come vi abbiamo detto il Consiglio regionale si è riunito in seduta solenne. Una giornata veramente molto importante che cerchiamo di rivivere in questo nostro appuntamento. Perché c'è stato l'esodo? Allora, tutte le storie possono essere molto complicate e anche molto semplici. La cosa fondamentale, come ha detto Churchill, è caduto una cortina di ferro che è partita da Stettino sul Baltico fino a Trieste sull'Adriatico. Quindi noi siamo stati gli unici di lingua italiana che si erano rimasti in massa al di là della cortina di ferro. E come da tutti i paesi in cui c'è il comunismo la gente cerca di andarsi. Noi abbiamo avuto un privilegio che il trattato di pace dell'articolo 19 prevedeva che quelli di lingua d'uso italiana potessero andare via. È chiaro che questo è una dizione che permetteva assoluta l'autorità di giocarci. Quindi in alcuni casi la gente andava via tranquillamente perché tendevano a cercare di evitare, come in tutti i paesi di questo tipo, che la gente andasse via. E quindi magari autorizzavano il marito e non la moglie, i genitori e non i figli. Però insomma, poi anche lì c'era il problema. Ma chi erano gli italiani? Eravamo situazioni estremamente miste. Gente che si era sposata, matrimoni misti. Non erano due tribù diversi. Semplicemente è come se ora qua a Firenze ci fossero alcuni che parlano un dialetto e altri un altro. Quindi non c'erano differenze significative. E quindi con quella formula tanti hanno avuto anche difficoltà ad andare via. Ecco, e andare via è stata, non solo perché la gente lasciava tutto, le case, per i contadini è stata praticamente dura perché, cioè un impiegato statale, come erano i miei genitori, alcuni, mio padre lavorava al Genoio Marina e mia madre era insegnante. È stata dura, ma in fondo, ma un contadino invece, che di colpo, e quella volta i contadini rispetto ad ora erano molti di più, percentualmente, venivano paracadutati nel nulla. Erano, a parte le situazioni dei campi profughi, l'Italia ha fatto quello che poteva. Perché in quella situazione accogliere centinaia di migliaia di persone non era semplice. Io ricordo, poco tempo, ero stato in campo profughi, erano questi enormi stanzoni di caserne, in cui ogni famiglia c'erano dei fili tesi da una parte all'altra, delle coperte che dividevano. Allora, per un ragazzino come me era quasi divertente correre, fare il nascondino. Ma immaginate una famiglia in cui si trovava lì, non poteva, per esempio, cucinare, dovevano andare alla mensa comune, mangiavano seduti sul letto perché c'era lo spazio per i letti, per la famiglia e basta. Quindi è stata una situazione dura. A me si poteva imputare all'Italia. C'era, per esempio, a Novara una caserma dove sono stati alloggiati, dove non c'erano le finestre, la nebbia entrava e il tetto mancava. C'era solo il solaio, quindi la pioggia veniva giù. Ma per il resto d'Italia dove poteva metterli tutte queste persone. Già le case erano bombardate. Tant'è che, per esempio, il campo profughi a Migliarino, vicino Pisa, c'era una parte riservata agli sfollati pisani, le cui case erano state bombardate. E poi la situazione migliorò con quelle che venivano chiamate case fanfani, le case popolari degli anni 50. E mi diceva un ragazzo che ci è rimasto a lungo, lui è rimasto fino al 63, finalmente abbiamo avuto una casa, però abbiamo perso la comunità. perché nel campo profughi comunque si stava tutti insieme e tornavamo da scuola e noi che andassimo a mangiare dai genitori, ci guidava il naso, si andava a mangiare magari tutti insieme da una signora che aveva fatto una cosa particolare. Era poi una comunità. La giornata del ricordo istituita con legge il 10 di febbraio, oggi è stata solennemente ricordata nel Consiglio regionale perché è una testimonianza fondamentale, quello della memoria, perché gli italiani sappiano quello che è accaduto, che probabilmente 11.000 loro connazionali sono morti, gettati in queste cavità carsiche dette foibe e che tutto questo avveniva nel momento in cui un esodo di 400.000 persone veniva a essere, a costringere gli italiani a uscire da quelle terre. Pensate che fu proprio il piroscafo dal nome Toscana che rimane emblematico dell'esodo appunto di 400.000 persone dall'Istria, dalla Dalmazia. Io penso che sia molto importante ricordare che quella parte d'Italia, Dante ricorda proprio nella Divina Commedia, nel nono canto dell'Inferno, l'Italia come un paese dalla Sicilia a Pola, sia oggi sempre caratterizzata in un'epoca di pace, comunque dalla necessità di pensare agli italiani che furono costretti dopo la Seconda Guerra Mondiale a venire via e purtroppo se non venivano via le foibe erano la destinazione per coloro che entravano in conflitto. Penso che sia bello però ricordare anche i momenti in cui nei campi profughi che furono in modo molto rapido d'emergenza allestiti furono il presupposto di un'integrazione che poi nella gran parte dei casi vi è stata fra questi italiani che venivano dai confini nord-orientali e devo dire che noi stiamo pensando a un museo proprio a Laterina, il più grande campo profughi Istria-Dalmat che vi sia nella nostra Toscana come il nostro pensiero a quello che fu come accoglienza Calambrone, naturalmente appunto Laterina che ho citato ma anche le presenze nelle varie città toscane stamani un quotidiano riferiva dei mille profughi che si integrarono a Livorno. Il 10 febbraio perché proprio il 10 febbraio di 75 anni fa fu firmato l'accordo, il trattato di pace tra l'Italia e le altre forze alleate che poneva fine alla guerra questo è il motivo per cui si ricordano la tragedia i crimini, gli orrori che tanti italiani subirono in quegli anni e le atrocità della guerra, l'odio che ha segnato il Novecento non può passare inosservato non ci si può voltare dall'altra parte c'è chi continua a dire e vale per la Shoah ma vale anche per le foibe che tutto questo non è mai accaduto ecco io penso che un'istituzione come la nostra non debba voltarsi dall'altra parte debba ricordare perché quello che è accaduto non accada mai più io prendo in prestito le parole del Presidente Mattarella che lo scorso anno insieme al Presidente sloveno mano nella mano la potenza di quel gesto mano nella mano ci ha mandato un messaggio forte che le sofferenze, i lutti lo sradicamento sociale e culturale che avvenne in quel tempo non può essere dimenticato e oggi qui faremo in Consiglio regionale esattamente questo perché la memoria, il ricordo servono a fare in modo che quello che è accaduto non accada mai più giornata del ricordo una giornata importante in cui il Consiglio regionale si ferma e prova in termini istituzionali a fare del ricordo di quello che è successo nelle foibe un momento di unità non soltanto della Regione Toscana ma del nostro Stato sono quelle giornate importanti, fondamentali che consentono di stringersi intorno al ricordo di tante vittime a un sacrificio che è costato la vita a tante persone in gran parte dei casi innocenti e questo deve portare una grande riflessione soltanto così si ricostruiscono le basi e le fondamenta dell'unità nazionale e credo che questo sia importante ogni anno che il Consiglio regionale si fermi e possa ricordare quanto accaduto il giorno del ricordo così come la giornata della memoria ci invitano alla riflessione di quelle che sono state delle pagine dolorose delle tragedie come l'olocausto Auschwitz e in questo caso quello che è stata la pagina delle foibe per l'Istria e per troppi italiani noi dobbiamo concretizzare il ricordo ecco perché sono particolarmente contento di aver dato il mio contributo nell'indicare il nome delle referenze per la Toscana dell'Associazione Nazionale Giuliano Dalmata l'ingegnere Giacometti che ha ricordato bene quello che è stato il dramma delle foibe il dramma di Jesodi il dramma di quella che è tutto è stato veramente un momento doloroso per l'Istria e per questa parte che era d'Italia non dobbiamo dimenticarci dobbiamo portare avanti il ricordo in modo concreto ma soprattutto cercare di rendere di fare sì che queste pagine possano essere veramente di tutti perché troppo spesso ci dividiamo ancora su basi ideologiche e noi dobbiamo essere contro fermamente contro chi fa del revisionismo perché così come per la memoria anche per il ricordo devono essere delle giornate di tutti leggo a volte commenti ma anche comunicati che non mi piacciono per niente e questo lo devo dire con molta chiarezza L'importanza è indiscutibile anche perché per troppo tempo questa storia questo momento doloroso è stato oscurato dimenticato ignorato e anche quando è stata istituita la giornata del ricordo poi è stato un momento più di contrapposizione che di di riflessione su quanto accaduto l'importante sarebbe non dimenticare mai di nutrire umana pietà cosa che è sempre più difficile in questa società oggi abbiamo ascoltato parole non di contrapposizione ma di cordoglio di sincero dolore e partecipazione e questo mi ha fatto veramente molto piacere perché anche nelle mie precedenti esperienze istituzionali non sempre è stato così quindi sono contenta che finalmente si arrivi a una celebrazione molto più pacata in particolare oggi devo dire abbiamo assistito a due interventi molto alti molto interessanti di Tony Capozzo di Guido Giacometti con le conclusioni del presidente Gianni che hanno dato anche una ricostruzione storica interessante e comunque la lezione di fondo che è quella per cui in un periodo storico ben individuato dilagò questo virus del nazionalismo come è stato ben definito e ben descritto che portò alla persecuzione delle minoranze questo ci dice ancora oggi che le discriminazioni devono essere combattute sappiamo che ancora oggi in tante parti del mondo questi fenomeni queste operazioni assolutamente da contrastare comunque avvengono e quindi questo ci richiama anche una responsabilità quotidiana che sta sulle spalle di ciascuno di noi e questa è l'importanza di questi momenti nei quali viviamo il monito solenne del ruolo che ricopriamo ma anche della responsabilità che portiamo come cittadini nella nostra vita quotidiana dispiace notare purtroppo che ancora evidentemente il nostro paese nonostante dei gesti bellissimi li ricordava oggi il presidente Mazzeo ricordava per esempio il presidente della Repubblica Mattarella che mano nella mano con il presidente della Repubblica Slovena lo scorso anno vanno a rendere omaggio ai caduti sulla foiba di Vassovizza nonostante questi simboli che le istituzioni continuano a regalarci purtroppo il nostro paese non è pronto a celebrare questo giorno ci sono ancora in tutte le città d'Italia da nord a sud convegni negazionisti professori docenti universitari rettori e in Toscana non a caso sottolineo la parola rettori di università che ancora continuano a dire che quei crimini non sono mai stati perpetrati o peggio li derubricano a una mera ritorsione legandoli chissà come chissà perché al periodo fascista con quell'eccidio con quello sterminio non sono stati uccisi qualche fascista sono stati uccisi decine di migliaia di cittadini italiani che col fascismo non avevano niente a che vedere anzi spesso erano stati anche perseguitati dai regimi nazista stamattina da testimonianza in consiglio regionale di Tony Capuozzo giornalista di fama nazionale che ci ha raccontato la vicenda di un ebreo olandese perseguitato dal regime nazista che alla fine della seconda guerra mondiale torna in Istria per vivere nella terra natia dei suoi avi e lì viene trucidato dai partigiani comunisti chi rappresenta le istituzioni ha il dovere di preservare quella che è una verità storica quella di una tragedia che al pari dell'olocausto ha segnato la storia del novecento e che appunto richiama tutti quanti noi a non abbassare la guardia su vicende che purtroppo hanno segnato tragicamente il nostro il nostro secolo e con la seduta solenne dedicata al giorno del ricordo si conclude anche il nostro appuntamento con dentro il consiglio vi ricordo per tutti gli aggiornamenti e le informazioni c'è il sito internet www.inconsiglio.it grazie per essere stati con noi appuntamento tra sette giorni sempre qua dentro il consiglio www.inconsiglio.it www.inconsiglio.it www.inconsiglio.it